Quattro persone, nel dettaglio due imprenditori e due committenti dei lavori, sono state denunciate dai carabinieri dopo una serie di controlli in due cantieri edili di San Giovanni Gemini e Castrofilippo. Nel primo caso è arrivata la denuncia per l'amministratore unico di una ditta edile di San Giovanni Gemini per deposito di materiale sulle impalcature, ponteggio di forme rispetto a quello previsto e mancanza di scale fisse in costruzione. Stesso destino per la committente dei lavori, una donna 37enne, sempre di San Giovanni Gemini, denunciata per omessa nomina del coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. A Castrofilippo il titolare di un'impresa edile è stato denunciato a piede libero con l'accusa di non avere predisposto la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, oltre che per la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale, della redazione del piano di sicurezza e dell'installazione del quadro elettrico di cantiere. I militari dell'arma hanno pure accertato la presenza di un lavoratore in nero, denunciata anche la committente dei lavori, una donna di 66 anni, ritenuta responsabile di omessa verifica tecnico-professionale sull'impresa esecutrice dei lavori. Nel dettaglio sono state elevate multe per complessivi 75.345 euro e sanzioni amministrative per 6.766 euro.